Oroscopo del giorno, martedì 27 ottobre 2020 Ariete Amore, in questa giornata sarà importante lasciarsi andare per sentirsi un po' più leggeri. Ovviamente lo si potrà fare pure con il partner o con una persona speciale. Le emozioni non mancheranno e si rivelerà un martedì piuttosto piacevole. Lavoro Oggi potrete pensare al domani ma potrete concentrarvi soprattutto sugli obiettivi professionali. Toro Amore Se avete conosciuto una persona da poco tempo potrete mettere da parte le preoccupazioni e i timori. Meglio agire e reagire seguendo l'istinto e il cuore. In questo modo tutto andrà come deve andare e difficilmente ve ne pentirete. Lavoro Quanti progetti in mente? Probabilmente avrete voglia di pensare in grande. Gemelli Amore Questo sarà un giorno decisamente leggero in cui vi sentirete facilmente a vostro agio con voi stessi. Non mancheranno i pensieri ma non saranno per forza negativi. In fondo un po' di tranquillità e spontaneità non fa mai male. Lavoro Potrebbe arrivare qualche colpo di genio sul posto di lavoro. Meglio non sottovalutare certe idee. Cancro Amore Questo sarà un martedì di fine ottobre particolarmente entusiasmante. Le energie saranno al top e anche l'umore sarà decisamente buono. Con il vostro partner deciderete di essere sinceri e di condividere ogni pensiero e iniziativa. Lavoro Non avrete paura delle sfide. Anzi, qualche progetto potrebbe appassionarvi in un modo che vi piacerà. Leone Amore Pare proprio che nei prossimi giorni le cose cambieranno perché deciderete di esprimervi liberamente. A quel punto sarà semplice mettere le cose in chiaro. Per oggi però vi limiterete ad osservare e a riflettere prima di dire o di fare. Lavoro Per questa giornata non ci saranno grosse novità ma potrebbero nascere nuovi stimoli. Vergine Amore Finalmente riuscirete a pensare al futuro al fianco della persona che amate veramente. Questo modo di ragionare vi porterà ad una complicità ancora più importante con i partner. Potrete godervi emozioni e sentimenti in piena serenità. Lavoro Le stelle di oggi saranno interessanti e vi permetteranno di progettare qualcosa in vista del domani. Bilancia Amore Occhi aperti a questa giornata che si potrebbe rivelare estremamente importante e speciale. Se avete una persona al vostro fianco le emozioni oggi giocheranno un ruolo fondamentale. I sentimenti si faranno sentire. Lavoro Lavoro Molto bene le energie che porteranno a delle idee piuttosto interessanti. Scorpione Amore Tornerà finalmente un po' di leggerezza e sarà un martedì abbastanza tranquillo. In questa giornata di ottobre potrete concentrare le vostre attenzioni sul futuro della vostra relazione d'amore. Riuscirete ad esprimervi liberamente con i partner. Lavoro Pare proprio che oggi agirete con originalità per inseguire i vostri scopi e sogni nel cassetto. Sagittario Amore Le stelle di questa giornata vi piaceranno e riuscirete a sentirvi bene anche con voi stessi prima che con gli altri. Gli equilibri nei rapporti saranno buoni ma probabilmente deciderete di fare delle scelte dettate da alcune riflessioni. Lavoro Avrete voglia di sentirvi realizzati e per questo darete retta alle energie positive e al vostro intuito. Capricorno Amore Se siete impegnati in una relazione di coppia, in questo martedì non vi tirerete indietro. Con il partner condividerete ogni pensiero, ogni preoccupazione e ogni idea o intenzioni. Lo farete con consapevolezza e con la giusta serenità. Lavoro Deciderete di agire seguendo il vostro istinto e non sarà un errore. Acquario Amore Questa sarà una giornata quasi transitoria. Le cose cambieranno presto e voi vi state preparando per farlo. I prossimi giorni di ottobre saranno da prendere con ottimismo. Le stelle vi sosterranno e saranno dalla vostra parte. Tempo al tempo Lavoro Meglio non esagerare con i progetti e i sogni troppo lontani, almeno per il momento. Pesci Amore Questo martedì di fine ottobre potrebbe piacervi in maniera particolare. Il motivo è legato al fatto che vi sentirete molto bene, leggeri e determinati. Niente sarà poi così difficile da affrontare o superare, sempre che lo vogliate veramente. Lavoro Sarete ambiziosi e delle volte gli obiettivi di lavoro potrebbero apparire quasi irraggiungibili. Non demordete Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Sarete ambiziosi e delle volte. Sarete ambiziosi e delle volte. Sarete ambiziosi e delle volte.